salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nostro nuovo appuntamento di mistici in modo particolare stiamo vedendo se dio vuole la mistica la sua ora praticamente io maria ionela e si è lotato il nostro signore gesù cristo dio vi benedica e ave maria e andiamo ovviamente a vedere cosa il signore ha detto poi a lei perché praticamente lei ha avuto la possibilità di vedere determinate cose e di sentire tra la voce del signore queste cose ma vediamo che cosa gli ha detto in questa in questa puntata sulla vanità dice gesù la vanità è la durazione del proprio io il quale si attribuisce i doni di dio interiori ed esteriori intelligenza scienza forza arte bellezza ricchezza successi in ogni campo d'attività è l'adornarsi di fatuità lusso moda sport eccetera tutto può accadere anche nella vita spirituale quando qualcuno esalta se stesso per le virtù per le grazie ricevute per i suoi meriti dilettandosi dei doni ricevuti da dio invece di dare gloria a lui la vanità è un peccato odioso davanti a me perfezione divina occorre combattere tutto questo decisamente vanità e santità non possono andare d'accordo esami di coscienza non hai attirato le anima a te e non le apprezzi se non a motivo dell'attenzione delle lodi che ti accordano se è stata giusta è uguale per tutti hai odiato e detestato i pensieri il parlare di te stessa delle tue conoscenze di tutto quello che accarezza il proprio io hai allontanato subito da te la vanità o la mantieni camuffata nel tuo intimo tu lo sai ti voglio semplice come mia madre semplice divinità le bellissime parole che il signore ovviamente sta dicendo alla sua sposa la mistica diciamo e fa comprendere che la cosa più importante fratelli e sorelle è l'umiltà non è la vanità che l'umiltà è la vanità cioè la santità in questo caso la vanità l'umiltà sono due cose che vanno ovviamente contrapposte su questa cosa fratelli e sorelle quindi tanto è vero come dice anche che dice questo gesù se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua quindi chiediamo umilmente a gesù di far verità nei nostri cuori e aprirci alla sua infinita misericordia perché ci renda liberi figli di dio e non più schiavi di satana e queste meditazioni che ascolteremo devono essere utili proprio per i nostri esami di coscienza e per migliorarci fratelli e sorelle è proprio una cosa che il signore ci dice guarda noi lo facciamo proprio per te dice il signore quindi per te per me per voi fratelli e sorelle per tutti quelli che vorranno ovviamente ascoltare bene fratelli e sorelle dio vi benedica sia lodato gesù cristo sia fatta la sua santa volontà se potete se volete diffondete questo video per far comprendere che cosa vuole il signore da tutti noi per arrivare alla gloria della santità verso ovviamente nostro signore gesù cristo dio vi benedica e santa giornata a tutti voi grazie Grazie.